La lettera diceva altro? No, solo un indirizzo. Siete qui per tradurre. Tradurre perché? Per i pazienti di Cernobil. Non immaginavamo che fossero così tanti. Io non ho scelto questo. E neanche quei bambini. Non posso passare la vita con un uomo che non mi parla. Io non posso farlo per te. Un traduttore. Venerdì alle 20.55 su TV2000.